Se ti piace davvero una ragazza, soprattutto se è una di quelle super ambite e piene di corteggiatori, usa la tecnica dell'indifferenza, ma non prima di aver lanciato qualche indicatore di interesse. Ovvero sei nella fase in cui hai già ottenuto il suo numero e quindi hai superato lo step del primo contatto. Ora devi fare molta attenzione per renderti appetibile a tua volta. E questo accadrà se installerai in lei il dubbio del perché proprio tu non dimostri di morirla dietro. Ecco alcune regole sul finto disinteresse. 1. Scrivile tu per primo, solo la prima volta, poi non farlo, fino a che non sarà anche lei a scriverti a sua volta. Se le interessi, lo farà. 2. Non argomentare solo tu nelle conversazioni chat e live. Fa sì che si impegni anche lei a farsi conoscere e a conoscerti con domande rivolte a te. Perché questo avvenga? Sii un po' criptico. L'uomo tenebroso ha sempre suscitato un certo interesse nelle donne. Perché vogliono scoprire tutte cosa c'è dietro quell'aspetto così misterioso. E vogliono pure accappararsi la medaglia della prima arrivata nella scoperta. E tu sarai il premio vinto. 3. Non riempirla di complimenti banali. Più è bella e più sarà abituata agli apprezzamenti estetici. Quindi dimostra di notare anche altro in lei. Ma non fare come qualche uomo che, esagerando, si pone con fare di sfida estetico con lei. E finisce, per non dirle mai, nemmeno una volta, come sei bella questa sera. Come sempre, vale la regola dell'equilibrio. Un complimento a settimana è poco, due invece sono troppi. 4. Sappi dosare il tutto. 4. Risulta ambito ai suoi occhi. Le donne sono abituate ad avere un numero di corteggiatori abbastanza elevato. E sapere o credere che anche tu sei circondato da corteggiatrici femminili, aiuterà a farla scendere dal consueto piedistallo, sul quale inevitabilmente si ritrova e dal quale gestisce tutte le sue avance. Al contempo, questa sorta di parità ti donerà un'aurea più accattivante. Parola d'ordine? Smantellare il suo piedistallo. Se sei ambito e ricercato da altre donne, fai in modo che lei lo venga a sapere. Fatti contattare dalle varie tuoi spasimanti, quando tu e lei siete insieme. Se le donne ti cercano così tanto, si chiederà cosa hai di così speciale. E lo vorrà anche lei, dato che la donna è spesso molto competitiva con le sue pari genere. Mi raccomando a non esagerare però. È importante rimanere credibile. Anche qui, un giorno le sembrerà che tu abbia tutti i tuoi piedi e il giorno dopo ti converrà a dimostrare di essere, nonostante ciò, un ragazzo molto umile e poco tronista. 5. Non mostrarti mai affamato di conquiste. Non farti percepire come il cosiddetto morto di F. Altrimenti, tempo zero, il tuo fascino svanirà.